A margine della manifestazione leghista per la legalità e contro l'immigrazione clandestina abbiamo intervistato il sindaco di Verona e il segretario della Liga Veneta, Flavio Tosi. Flavio Tosi, oggi una piazza gremita, piena tutta la Padania, unita, perché la bossifinia non deve essere toccata? Sì, perché la sciagura di Lampedusa è dovuta, per carità è una sciagura, e non bisogna farci polemica gratuita, però è chiaro che se tu illudi delle persone, e poveraci in questo caso, disgraziati, sfortunati, che possono in qualche modo arrivare in Italia e quando arrivano gli si trova una soluzione lavorativa, una sistemazione, e qui dicevo, questi fenomeni vengono alimentati da chi gli dà la percezione di poter arrivare. E quindi tutte le volte che parli di abolire due ussoli, di abolire le autoimmigrazione clandestina, comunque dai segnali di apertura, è chiaro che la conseguenza è che qualche disperato in più prova ad arrivare. Se provano ad arrivare dalla Siria, che è distante migliaia di chilometri, e hanno come meta l'Italia, questo dà l'idea che da fuori c'è la percezione che in Italia in qualche modo ci si arriva. E quindi invece l'impostazione deve essere esattamente diversa, cioè far capire che le norme non si cambiano, che difendiamo le nostre frontiere, come qualsiasi paese normale dell'Occidente, e che oggi non c'è possibilità di accogliere. Oggi con la crisi che c'è non ci sono posti di lavoro, neanche per i nostri ragazzi. Abbiamo persone di una certa età che escono dal mondo del lavoro e non ne rientranno mai, e sono disoccupati o casse integrati. Non ci sono i soldi per l'assistenza sociale. Quindi oggi l'Italia ha una possibilità né di accogliere i migrati regolari, tant'è che anzi ci sono gli immigrati regolari che tornano nei paesi d'origine, perché qua non c'è lavoro, e tanto meno di far arrivare altri clandestini. Perché in Africa ci sono 700 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà estrema, non la risolverei mai facendo rivenire qua.